Quindi, parlavamo di Skriniar, se lo dovessi sostituire, con quali soldi? Puro andrò per uno. Seconda, Scalvini dell'Atalanta, ti può piacere? Beccao dell'Udinese, oppure Tiago Diallo dell'Ill? Luca, ci vuole, come ha fatto Giuntoli con Napoli, ragazzi, o Moncada e Massara con Milano, andate a trovare un profilo. Lo so che non è a pil, non è a pil. Cioè, quello che lavora dal Calabrese lì di fuori. Secondo me, Scalvini, che è giovane italiano, potrebbe anche essere un giocatore giovane, di prospettiva. Ma già l'Atalanta ti chiede 40 milioni. Vuol dire che tu, per strapparglielo, devi arrivare almeno a 30 più bold. In questo momento, noi non li abbiamo, soprattutto perché non stiamo facendo cassa con nessuno. Forse con Dunfri sprenderemo qualcosa. Quindi, dove andrà a parare l'Inter, secondo me, sicuramente? Andrà a parare con l'ennesimo parametro zero, andrà dalla Roma a prendere Smalling, farà l'ennesima mossa alla Geco e alla Mkhitaryan, senza nessuna programmazione. L'ennesima mossa che vuoi fare adesso, in questi anni, dove l'Inter non mette più un euro, tappi, metti una toppa qui, metti una toppa lì, poi vuoi che a me Scalvini non mi possa piacere? Certo che mi va bene. Becao è un buon difensore. Adesso non so se è un buon difensore per fare... Becao è un buon difensore per fare il centrale titolare in una squadra che vuole vincere lo Scudetto, ma se vai dall'Udinese e gli chiedi Becao, ti spagano 20 milioni. Noi abbiamo preso all'ultimo giorno di mercato, quasi al fotofini, sulla sirena, siamo riusciti a raccimolare quei 2 milioni circa per prendere il prestito di Acerbi, che per riscattarlo, Acerbi che sta comunque giocando più che bene, ci vogliono quei 4 milioni. Per noi sono pesanti anche quei 4 milioni, quindi è inutile fantasticare chi vorresti, chi non vorresti. È un casino, è un casino. È quello il problema dei tifosi, anche perché ci metto dentro anche questo, di volere questo, ma la realtà è un'altra. A darti dei nomi ci metto un attimo a darti dei nomi, ma poi andargli a prendere è un casino. E' per questo che oggi in un video dicevo, io non sono favorevolissimo al rinnovo di De Vrij, me lo sarei anche levato dalle scatole. Però a questo punto... Però messi come siamo messi, se De Vrij accettasse una sostanziosa riduzione dell'ingaglio, a questo punto, perché la difesa dell'Inter in questo momento ha bastoni, poi c'è Skriniar che se ne va, De Vrij, vecchio e in scadenza, a Cerbi, vecchio e in prestito, D'Ambrosio, vecchio e in scadenza. 4 su 5, tu non puoi comprare 4 difensori, bisogna che a questo punto già a un paio gli rinnovi... Il Marotta deve fare il Marotta. Il Marotta deve fare altro che le nozze dei fighi secchi. Deve trovare dei sostituti. Tolto Scalvini, in Serie A di giovani centrali non me ne vengono tanti in mente. E poi senza affrontare il discorso attacco, dove c'è solo Lautaro, perché Lukaku è in prestito. Dzeko ha 37 anni e Correa lo dovremmo dare in prestito da qualche parte. Anche qui su 4 ce n'hai uno, solo Lautaro. Il resto è tutto da rifare. Cioè veramente Marotta... C'è un'estate dove dovrà proprio dare il massimo del massimo. Allora, momento di est. Il conduttore deve prendere il controllo. Poi torniamo un attimo su Screener, così esauriamo il momento di est. Questa sera ultima San Siro, insomma ne abbiamo già parlato, perché Galtia è allenatore del Paris Saint Germain. L'Inter sarebbe pronta a salutare Scalvini già in questa sessione di mercato. Allora, Luca, 20 milioni di euro, secondo te va via già ora? Come si pronuncia l'allenatore del PSG? Come? Come si pronuncia? Galtier. Galtier. No, va via già ora, non va via ora? Non lo so, se resta poi fino a giugno, Mugno, eccetera. Allora, innanzitutto Galtier, senza rispetto, perché gli hanno chiesto se arriva, ma lui ha detto non so dirvi se arriva a gennaio o se arriva a giugno. C'è proprio un giocatore che... Ma anche sei mesi, tecnicamente lui può firmare il precontratto. Sì, ho capito, però in questo momento lui è un giocatore di un'altra squadra, lui proprio senza rispetto dice non so dirvi se arriva adesso o se arriva a giugno, però tanto arriva. Va bene, ma comunque è il segreto di Pulcinella. Io dico solo una cosa, adesso non voglio sputare su un giocatore e fare la parte di quello che adesso deve sminuire perché sta per essere lasciato. Ma Screener, secondo me, è un ottimo giocatore ma che vale di stipendio 4,5, 5, 5. Cioè l'Inter, secondo me, offrendo 6, più bonus, andando 6,5, sta facendo proprio il massimo di quello che... Se dall'altra parte c'è una società che ha i soldi da buttare via perché glieli ha offerti solo il PSG, non c'è un'altra società che gli ha offerto questi soldi perché non può esistere. C'è il PSG che da st'estate si è messo in testa che lo vuole, va bene, offri gli 10 milioni, 12 milioni, ma secondo me l'Inter ha fatto passi. Sì, sono d'accordo. Loro continuano, però ti voglio chiedere una cosa. Allora, se voi gli offrivate 6,5, il Paris Saint-Germain 6,5, perché deve rimanere all'Inter? Qual è il motivo? Un solo motivo perché deve rimanere all'Inter? Ma no, il PSG offre 25, la firma. Allora, va bene, la domanda... Se gli offriva la stessa cifra, perché deve rimanere all'Inter? Fammi sentire Luca cosa ne va. La fonte Castano, per i 25 milioni, prendere con le pizze. Sì, esatto, prendere con le molle. Allora, io nel mio piccolo, da fine novembre, lo dissi qui a Cartellino Giallo, dissi, da Milano mi dicono che l'offerta del Paris Saint-Germain ed era a fine novembre è 10 all'anno più una cifra tra i 10 e i 15 di bonus alla firma. Poi, se nel frattempo è aumentata la cifra di bonus... Ma tanto non pagano il trasferimento. Però Gaddo dice, perché dovrebbe firmare... Ma va bene. No, perché a parità... Ma ti do ragione, ma visto che non è alla parità, ma visto che non stiamo pagando di qualità... Quanto prendeva più di quanto gli offriva il Milan? Un milione in più? No, 500. Eh, 500 mila euro in più. C'è una nuova, c'è una nuova. C'è una nuova, c'è una nuova. C'è una nuova, c'è una nuova, c'è una nuova. Però Gaddo... No, voi la mettete sui soldi, però io sto dicendo un'altra cosa. Cioè, a parità di... Lui dice come prospettiva. Perché deve rimanere a Lidl? Ma non c'è questa parità, Gaddo. Non stiamo arrivando a Sondoria allora. Perché è andato all'Inter? Ma Gaddo, non c'è questa parità. Stiamo parando di Stato di Stato di Stato. Come a livello? Perché è l'Inter nel PSG? Sì, ma la Sondoria è l'Inter, no? Gatto, tu stai facendo un paragone che non sta in piedi, perché non c'è la parità di stipendio. No, però lui ti dice... Il triplo proprio. In Italia... Ma lui ti dice anche a parità di ingaggio come prospettive... No, secondo me la parità di ingaggio rimaneva l'Inter a fare il capitale. Ce n'è uno, cioè, per dire, ma così per tutte le squadre italiane in questo momento, eh? Non è detto che sia titolare, in questo momento. Ma no, ma magari... Ragazzi, rendiamoci conto che solamente... Se è Fioramos e se è lui. Cioè, comunque, all'Inter avrebbe avuto un ruolo da bandiera. Idolo dei tifosi. Sì, ma... L'arena movibile. Ho capito, ma devi giocare... Non prendiamoci in giro. No, certo. Giochi con i campionati... No, darò il bravante che l'Inter deve... Ma la gioca anche in un campionato che non è molto bene. Ho capito, però se... Io preferisco allenarmi con Messi e Ramos, piuttosto che quei quattro scappati di casa che hai a piedi. Di Marco D'Armiato. Secondo me, secondo me, lui, se il Paris Saint Germain avesse offerto 6, 6 e mezzo, secondo me, poi posso sbagliarmi, sarebbe rimasto... Ma visto che l'offerta del Paris Saint Germain è totalmente fuori mercato, ma proprio... Va. Ovvio che va. Va bene anche. Va bene anche. Per culato il Milan, no? Hanno rotto le scatole, no? Con la storia di Donnarumma. Ho sbagliato Donnarumma. Peppi, 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 papà, 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 se questi perdono Skriniar, che per loro vale molto di più di Donnarumma... Perché altro che il Milan aveva un'alternativa, che era Mignana e le avevano già comprato. Ragazzi, paghiamoci chiaro, a me, TRC mi ha offerto gli stessi soldi di Teleromagna e io adesso... Bravo, è quello! È quello, guarda! Ma io adesso ti... Però se TRC mi avesse offerto il doppio più totale, Teleromagna, arrivederci! va bene, va bene ragazzi concentratevi perché è due lunedì che non indovina nessuno è vero per vincere la leggendaria t-shirt di cartellino giallo vi chiediamo di indovinare con un commento sotto al post della nostra pagina facebook pronostico e primo marcatore di Napoli-Roma di domenica 29 gennaio Napoli-Roma domenica 29 gennaio io andrei anche con il vino così ti do anche la parola chi beve? però aspetta, chi è che beve? nessuno io perché ho vinto la coppa c'è un bicchiere solo per lui vabbè vogliamo fare la premia vogliamo consolare Mastrangelo fa la premia sì dai diamogli lo so almeno quella l'ho vinta facciamo la premia almeno ragazzi almeno quella almeno quella almeno quella dal 1885 l'azienda Viti Vinicola Fattoria Nicolucci di Nicolucci Alessandro produce pregiatti vini dove gaddo scusa? pre-da-pio area di grande importanza storica nella vitticoltura della Romagna oggi brindiamo alla vittoria della Supercoppa del Vincolo brindiamo pure mi sa che brindo anch'io però con il tre rocche il tre rocche il tre rocche il tre rocche il tre papine il tre rocche 1885 pensa l'ultimo anno in cui la Juventus ha vinto la Coppa dei Campioni più o meno bello pastoso ma più che bello pastoso direi bello pastoso allora chiudiamo il discorso Supercoppa poi dobbiamo cioè ragazzi dobbiamo andare io pensavo tutta la puntata esatto esatto non lo chiudiamo adesso lo chiudiamo ok bevitelo bene no perché voglio andare anche dalla parte sconfitta dicevo ovviamente perché tu sai che noi abbiamo la stessa faccia ebbete di Ceranoglu esatto uguale mi sa che stasera non ha lasciato dichiarazioni Ceranoglu no però veniamo ai problemi di casa nostra vediamo ai problemi del Milan vai vedi che non ho finito con la Supercoppa se mi fai finire perché devo guardare anche l'altra parte quindi tu sai che questo programma ha una chiara impostazione da una parte ovviamente e stasera e stasera lo vedi eccomi qua e stasera lo vedi c'è il triangolo cambiate la conduttrice l'anno prossimo grazie allora problema di testa problema fisico ne abbiamo parlato un po' anche prima io non voglio fare il Mauro Suma della situazione che difende sempre però abbiamo cannato quattro partite male molto male Torino Supercoppa eccetera per me è un problema più di testa che di alto perché sul secondo gol dell'Inter siamo in particolar modo l'ho notato siamo piuttosto svagati mentalmente secondo me questa squadra non c'è però voglio dire a Salerno abbiamo vinto stravinto giocato bene il 4 di gennaio siamo al 23 non è che in 15 giorni siamo rincoglioniti quindi voglio sapere la tua e poi quella di Luca io non voglio rovinare un sogno però no perché c'è secondo me un ragionamento che pare se questa squadra ha vinto fondamentalmente facendo un'impresa è vero l'anno scorso lo scudetto dove è diventata una favola nel senso chi entrava segnava andava tutto bene si lottava fino al novantesimo però come ho già detto in altre occasioni io continuo a dirlo questa squadra si è messa nella testa che sono diventati 11 fenomeni e cambiando l'atteggiamento radicalmente te lo stanno dimostrare i numeri perché comunque il Milan quest'anno ha preso dei gol nel finale adesso l'esempio più banale è la Roma l'anno scorso non sarebbe mai successo ha buttato via partite che l'anno scorso non buttavi via il Messias che faceva la partita stradipante quest'anno è tornato non hai buttato via una partita qui sei stato preso a pallonare posso finire se dobbiamo interloccare stai facendo un discorso come se sembra che stava andando bene ma l'abbiamo buttata via io non sto parlando di questa partita qui io facevo un discorso più generale fino a che questa situazione ti ha portato ad affrontare questa tipologia di partite dove c'è una squadra che nell'undici vuoi o non vuoi è comunque più forte perché tanto l'Inter l'abbiamo sempre detto era una delle squadre che è sempre stata più attrestata e ti hanno preso a pallonate perché era una partita che se finiva 5-6-0 loro non avevano rubato assolutamente niente si avevano avuto un po' l'inizio del secondo tempo ma poca roba ma sì ma poca roba velleitari però tutta colpa della squadra io ti dico snì perché fondamentalmente noi continuiamo ad andare avanti da tot partite con una punta di 36 anni un altro giocatore non ce l'abbiamo è il discorso di Zeko tra l'altro più o meno Giroud deve trascinare come Zeko sta facendo nell'Inter ma all'età conta per entrare con la differenza che però magari un Lautaro loro da far giocare titolare vabbè ma anche te ce l'hai un Orighi ah no un Orighi senti no Orighi per favore forse domani titolare un cadavere no ma Orighi l'ho mollato anche io ma all'inizio l'ho un po' di tempo è vero e basta ti ricordi ma ognuno c'ha il suo Correa dai ognuno c'ha la sua croce ognuno ha la sua croce beh chiaro tu hai Correa io Correa voi avete Orighi ognuno ha la sua croce